La discarica di Lentini potrà continuare a restare aperta per il trattamento dei rifiuti e il successivo inoltro degli stessi presso altre discariche o impianti di recupero energetico anche al di fuori della Sicilia. Lo prevede la nuova ordinanza proposta dall'assessorato all'Energia e adottata dal presidente della regione siciliana Renato Schifani in via straordinaria ed emergenziale per superare i limiti di stoccaggio dei rifiuti posti per ragioni di sicurezza ai vigili del fuoco a seguito dei pareri positivi di ARPA, ASP, CTS, città metropolitana, oltre che del comune di Catania. Il provvedimento di Schifani è stato emesso per prevenire lo stato di emergenza di oltre 200 comuni siciliani, soprattutto per la natura ambientale e igienico-sanitaria nelle more del rilascio da parte del Dipartimento regionale Acquerefiuti della nuova autorizzazione ambientale integrata per gli impianti di contrada a Codavolpe a Lentini in provincia di Siracusa, secondo proprio le prescrizioni della Commissione Tecnica Specialistica della Regione. Iniziamo, sottolinea il Presidente Schifani, a mettere ordine al settore risolvendo una serie di problemi che nell'ultimo periodo avevano causato il blocco dell'impianto della Sicula Trasporti. Il rilascio della nuova autorizzazione ambientale potrà consentire di riprendere in maniera regolare e ordinaria l'attività di trattamento dei rifiuti e il successivo trasferimento presso altre discariche o impianti di recupero energetico.